Massimiliano Amadori è il nuovo capo di gabinetto del comune di Pesaro, prenderà il posto di Franco Arceci che va in pensione ma continuerà per un anno a lavorare gratuitamente per il comune. L'ho annunciato questa mattina al sindaco Matteo Ricci che ha spiegato di aver concluso sabato la procedura per la selezione. Amadori è una persona di grande onestà di cui mi fido ciecamente, ha detto Ricci, ha alle spalle un lungo impegno nel quartiere, in consiglio comunale, nelle società partecipate, oltre ad un'esperienza politica notevole. In questi anni ha dimostrato una grande capacità di lavoro, dialogo e confronto con le persone, lo dimostra anche il grande consenso elettorale ottenuto durante le amministrative del 2019. Amadori, dopo aver ringraziato il sindaco, si è detto emozionato e pronto a svolgere nel migliore dei modi il suo lavoro. Già dimessosi dal ruolo di consigliere comunale, dovrebbe essere rimpiazzato da Cinzia Ceccaroli. Nei prossimi giorni, fanno sapere dal comune, verrà reso noto il nome del nuovo capogruppo del PD. Sono molto emozionato, un incarico importante perché credo sostituire una persona come Franco Arceci in questo momento sia impossibile. Però c'è tutta la volontà e la passione per provarci. E poi l'encomio da parte del sindaco Ricci a Franco Arceci, in comune dal 2005, prima come portavoce di Ceriscioli, poi come capo di gabinetto di Ricci. E' il nostro CR7, un fenomeno della pubblica amministrazione, così l'ha definito il primo cittadino, sempre il primo ad arrivare, anche l'ultimo ad andarsene, anche nei giorni in cui scoppiò la pandemia. Ha sottolineato un uomo dalle eccellenti abilità organizzative e capacità relazionali, coniugate a una non comune attitudine all'ascolto, doti che gli hanno permesso di conseguire risultati di rilievo. Abbiamo deciso insieme col sindaco di proseguire almeno per un altro anno questa esperienza, per cui farò lavoro volontario insieme con il sindaco e con la volontà di aiutare il nuovo capo di gabinetto ad assumere meglio possibile questo ruolo e questa funzione. Perché il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che è molto vario e bisogna farlo interpretando le necessità dell'amministrazione comunale e del sindaco. Però dico che il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che ti porta a lavorare a 365 su tutti i temi dell'amministrazione comunale, quindi o in un modo o in un altro, con maggiori risultati o con minori risultati, però quasi in ogni cosa dell'amministrazione comunale ci si sente coinvolti e si è coinvolti. Grazie Grazie